Presso il Teatro Giuseppe Di Stefano di Trapani, nell'ambito della 75esima stagione del luglio musicale trapanese, si è tenuta una performance di danza contemporanea e che ha dato vita ad uno straordinario connubio tra Bach e Dante Alighieri. Lo spettacolo, infatti, denominato Bach in Contra Dante, è stato un autentico progetto interdisciplinare che ha coniugato la maestria coreografica contemporanea di Monica Montanti e Damiano Artale con la musica classica, un viaggio attraverso l'inferno, il purgatorio e il paradiso della Divina Commedia. È stato guidato dai movimenti eleganti di cinque danzatrici, esplorando così temi universali di peccato, redenzione e ricerca. Le letture appassionate dei vari canti, magistralmente recitate da Giampiero Montanti, hanno costituito l'elemento di contorno di questa performance che ha fuso arte, musica e letteratura in un unico splendido affresco. La musica di Bach, con la sua profondità emotiva e complessità, ha fornito la colonna sonora perfetta per immergere il pubblico nel mondo dantesco attraverso un'interpretazione innovativa che fa uso della danza.